Sarà Stefano Bollani ad aprire i festeggiamenti di Capodanno la sera del 31 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli, poi Daniele Silvestri in una esibizione live con la sua band e tanti giovani artisti come Livio Cori, Nicola Siciliano e Walter Ricci. Il format si conferma quello di sempre, dopo il concerto al Plebiscito in attesa della mezzanotte, la festa si sposterà sul lungomare con i fuochi d'artificio al Castel del Lovo e quattro palchi con generi musicali differenti per ballare fino all'alba. L'evento è stato presentato questa mattina in comune con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessora alla cultura e turismo Eleonora De Maio. Ancora una volta un format originale in Italia ma ormai consolidato a Napoli, piazza Plebiscito il Fulcro, poi la grande discoteca del lungomare, altri luoghi come piazza Vittoria, il burgo marinario, i fuchi d'artificio, il solito programma però con artisti completamente diversi rispetto agli altri anni. Siamo soddisfatti, contenti anche di Stefano Bollani perché gli diamo la cittadinanza il 30 dicembre con un'altra bella iniziativa a Napoli e quindi siamo anche contenti di questo ulteriore tassello che va a arricchire l'offerta culturale di questo Natale a Napoli che è di primissimo livello a cui si aggiungono le novità di queste ore su piazza Garibaldi dove sia il 23 che il 27 dicembre organizzeremo due iniziative culturali forti, molto diverse l'una dall'altra, però dare la sensazione è quella la piazza centrale della città. È un capodanno innanzitutto di conferme, la conferma è quella di un format che negli ultimi anni è risultato vincente, è un format che vede concentrato in uno spazio in cui tutti gli ambiti sono vicini, da piazza Plebiscito a lungomare, i fuochi, piazza Vittoria, con tanti generi di musica differenti, un capodanno che parla linguaggi differenti e che fa in modo che ci siano performance con linguaggi culturali e artistici differenti e che parlano a tutte le parti della città e anche ai tanti turisti che arrivano da tanti luoghi d'Italia, d'Europa e del mondo. È un capodanno che vedrà su piazza Plebiscito uno spettacolo particolarmente autorevole e raffinato, il pianista Stefano Bollani, il cantautore, il poeta Daniele Silvestri, autore anche negli ultimi vent'anni di tantissime delle hit più pop del nostro paese e soprattutto come al solito un grande investimento sulle giovani promesse della nostra città, lo vedremo sia sul palco di Plebiscito che sul palco di piazza Vittoria. Sul lungomare, al solito come gli altri anni, un format che funziona particolarmente e piace tanto ai giovani della nostra città, la più grande discoteca all'aperto d'Europa che è il lungomare liberato.